Si chiama Acrobatica Aerea ed è una disciplina che permette di sfidare la gravità, di conquistare l'altezza e realizzare la fantasia di volare ed eseguire sui teli acrobazie spettacolari. La disciplina che svolgo io proviene dalle arti circensi, negli anni poi si è evoluta abbracciandosi alla danza, al teatro o alla ginnastica. Io nello specifico vado sul tessuto aereo, quindi al di là del tessuto si possono utilizzare altri strumenti, quali le corde, il cerchio, le cinghie. Sono attività appunto circensi. Sono già un po' di anni che svolgo il tessuto aereo. Abbiamo iniziato un corso da qualche mese, ora un po' a singhiozzo per via dei vari decreti e comunque della situazione. Ci sono corsi aperti a chiunque, quindi adulti, bambini, senza limite di età. Stamattina qui ci sono tre allieve del corso. Che cosa stanno imparando? Allora, loro hanno iniziato da poco, quindi diciamo da quest'estate a fare questo tipo di disciplina. Pian piano stanno iniziando a sperimentare cosa vuol dire salire su un tessuto, per cui iniziano a vedere cosa vuol dire lavorare in altezza, quanta forza ci vuole per comunque reggersi ad una certa altezza. Diciamo che è un lavoro piuttosto lento e faticoso, soprattutto all'inizio. Quindi ci vuole tanta passione, tanta determinazione e loro ce l'hanno. Infatti, nonostante questo momento un po' delicato, nonostante la scuola sia chiusa, veniamo qui ad allenarci all'aperto. Col passaggio in zona rossa come farete a mantenervi in forma? Ora in zona rossa non potremmo più allenarci all'aperto, per cui abbiamo iniziato a fare un percorso online. Cerco di seguirle loro da casa e cerco di fargli in qualche modo allenamento a distanza. Grazie a tutti.